Allora andiamo a vedere il servizio. Un conto ancora più salato delle stime iniziali, quello per adeguare il patrimonio edilizio italiano alle regole imposte dalla direttiva europea sulle cosiddette case green, rischia di essere un salasso senza precedenti. Addirittura dai 30 a 60 mila euro per ogni abitazione, tutto a carico delle famiglie italiane, con grande svantaggio per i meno abbienti. L'obiettivo dell'efficientamento energetico, con un taglio richiesto da Bruxelles del 16% dei consumi di qui al 2030, che salirà poi al 22% entro il 2035, interesserebbe almeno oltre 5 milioni di case private, sulle quali sarebbe necessario intervenire con l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti, sostituzione delle caldaie tradizionali a metano, con impianti a sé più costosi, a condensazione o a pompa di calore, cappotti esterni o interni per minimizzare la dispersione termica e altri lavori come l'installazione degli infissi termici. Un elenco di opere che porterebbe un conto totale, secondo un'impresa, di circa 270 miliardi di euro, cifra che può lievitare di molto se si aggiungono i 500 mila edifici pubblici. La meta da raggiungere nelle intenzioni di Bruxelles è arrivare a quota emissioni zero entro il 2050. Gli stati avranno due anni di tempo per adeguarsi, numeri da capogiro che fanno impallidire quelli del super bonus al 110% che già ha pesato molto più delle aspettative sulle casse dello Stato. La stretta sull'agevolazione edilizia decisa dal governo Meloni ha finito per accelerare la corsa delle spese.